Un bel modo per valorizzare il borgo di Marcena con Marcenando che torna per la terza edizione, provincia e associazione omonima. Riescono a rianimare un borgo bellino, molto carino, che è quello di Marcena, innanzitutto facendo sinergia, cioè coinvolgendo tantissimi soggetti, dagli artisti alle istituzioni, ai cittadini, ai vicini di casa e proponendo un modello di arte a chilometro zero che oggi la possiamo sicuramente riassumere nel capitolo della cosiddetta rigenerazione urbana. Ridare vita a questi borghi, anche chi non li conosce, chi non li ha mai frequentati, attraverso una luce diversa che è quella dell'arte, ma con il linguaggio antico dei luoghi. Il 17 settembre allora Marcena diventa il centro della provincia. Quali sono le iniziative? Sappiamo che c'è l'inaugurazione della Casa Museo e anche di un'opera di Alessandro Marrone. Sì, Alessandro Marrone che è in memoria dei caduti, di tutte le guerre, in particolar modo i bersaglieri della Prima Guerra Mondiale in bicicletta, ha creato, su idea di un nostro paesano, un'opera d'arte che verrà inaugurata con i bersaglieri in costume, con le biciclette, la fanfare e tutto il resto. E poi ci sarà l'inaugurazione di una casa museo importante, di Gialuela Lorenzo Palazzi, che avrà sede stabile nel nostro paese e scenererà con questa apertura. E poi tutto un percorso con ben 126 e oltre opere donate dagli artisti, vecchie ma anche nuove. Quest'anno ne abbiamo ben 26, dislocate sempre in un territorio più ampio.